Mie care ombre bentornate su Princess Peach Showtime. Io sono prontissimo per questo secondo episodio e spero che lo siate anche voi. In quello precedente che ho pubblicato ieri sera, con un giorno quindi di anticipo e sì, buon day one, perché in realtà ufficialmente il gioco esce oggi, abbiamo completato i primi due livelli, dove abbiamo visto Peach Spadaccina e Peach Pasticcera. Il nome dei livelli non me lo ricordo, guardiamolo insieme. Il Castello dei Rovi, 100%, e il Festival dei Dolci, non 100%. Ma vi ricordo che per il 100% ci saranno le live, quindi assicuratevi di guardare tutti gli episodi e poi di esserci anche in live quando ci saranno. È importantissimo attivare la campanellina. Fatevi sentire, mi raccomando, un like e un commento a questo video per supportare la serie alla grande. Ma adesso direi di andare ad affrontare il primo livello di oggi, ovvero questo. Tecnica ninjutsu, fiume in piena. E qua iniziano finalmente i livelli inediti, perché gli altri due li avevamo già visti nella demo. Da ora in poi saranno tutti nuovi. Let's go! Abbiamo comprato alcuni vestiti, altri li abbiamo trovati grazie ai fiocchi, e quindi sono mediamente soddisfatto. Avrei voluto fare di più in quello di pasticceria, in quel livello lì, ma pazienza. Materiale da live, non vi preoccupate. Ogni classica storia di ninja comincia in un villaggio. È meglio non andare da quella parte. E noi andremo da quella parte, vero? Allora, intanto controlliamo se per caso qua ci può essere qualcosa. Già abbiamo praticamente tagliato del bambù. Direi di sì. Oh! Oh! Ok! Bisogna assolutamente provare a colpire tutto in questo gioco. Ah beh, questo era proprio l'obiettivo principale, mi sa, eh. O no? Sì, da qui non si passa, quindi direi che per prima cosa dobbiamo andare di là. Come hai fatto? Hai visto? Eh, la magia. Andiamo! Non vedo l'ora di provare il nuovo costume. Questo sentiero porta alla dimora del saggio. Scusatemi, eh, ma io... Voglio provare a colpire tutto. Un'intrusa! Oh! Oh, ok! Bene! Praticamente è una fase stealth. Uh, sono saltato via all'ultimo. Meno male, mi stava per beccare. Wow. Che c'è qui? Un passaggio segreto. Molto bene. Qualcosa mi dice che se sbagliamo dobbiamo poi ricominciare dall'inizio? È possibile. Sapete però che io avrei tipo voglia di andare a vedere se per caso qua giù c'è qualcosa? Non c'è niente qua giù! Maledizione, era chiuso. Sembrava aperto, ma in realtà non era affatto aperto. C'era un muro invisibile. Maledetta curiosità. Vabbè. Sempre meglio essere curiosi e controllare che non controllare, perché lo sapete. Rischiamo di mancare cose. E le mancheremo lo stesso, ma cerchiamo di evitarlo, no? Questi si possono sconfiggere? No. E vabbè, io devo provarci, ragazzi. Non è che posso andare avanti. Sì, lo so. È iniziato un po' male questo... No, in realtà non è male, però. Vai, Shato. Concentrati. Concentrations. Bene. Adesso facciamo le cose fatte per bene come si deve. Allora. Qui c'è qualcosa. Qui c'è questo. Mmm. Aspetta. Non riesco a capire. Oh. Non riuscivo a capire se potevo andare a destra oppure no. E quindi ho detto, ma prima proviamo ad andare di qua. Oh, bene. Meraviglioso. Carino. Bel nascondiglio. Bravi. Astuti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Come hai fatto ad arrivare fino a qui? Sei come il ninja della leggenda. Non provo, perché ancora non abbiamo il costume. Oh, cavolo. Ma se ne stava andando? Eh, dopo un po' ho dovuto saltare, perché... Avevo paura che, appunto, se ne andasse. Ma, vabbè. Comunque, qualcosina ho rimediato lo stesso. Forse non il massimo, non il top del top, per quanto riguarda la ricompensa. Ma quasi. C'era un bel gruzzoletto, comunque. Oh, mi sa che ci siamo, eh. È lui o non è lui? Ma certo che è lui. Anziché è lei. Princess Peach Ninja. Peach Ninja. Vediamo. Wow. Fighissima. Peach Ninja. Decisamente. Oh, ma vediamo un po' cosa può fare. Oh, figo. Possiamo sprintare in avanti così. Oh. Che forse queste cose qui le ho anche viste nel trailer, ma proprio non me lo ricordo. Nel caso. Perché poi non ho visto nemmeno tutti i video. Vabbè, sorprendente comunque. Figo, bellissimo. Per il momento questo è il mio costume preferito. Oh. No. Che cacchio aveva fatto? Oh, vabbè, andiamo avanti. Non è che qui si può fare qualcosa di strano? Sembra di no. Cioè? Ah, ok. Andando proprio appiccicati. Alle cose lei automaticamente tira fuori quel mantello. Mantello, insomma. O quello che è. Fico. Ma lo devo colpire o no? Sì. Decisamente sì. Questa volta sì. Non come prima che si girava e poi... Mi colpiva lo stesso. Uh. Bello. Dobbiamo assolutamente controllare se ci sono delle zone strane dove bisogna utilizzare tipo la posa. Calmi. Ok. Oh. Noi siamo il ninja della leggenda. Però non... Oh. Eccolo. Oh, fichissimo. Bene. Bene. Quindi non solo ci sono delle stanze segrete ma anche semplicemente delle ricompense segrete che bisognerà attivare. Non so se qui mi vedranno. Mi vedrà anzi perché è uno. Con il salto anche. Vivello. Allora. Bisogna salirci da lì, eh. Assolutamente. Dobbiamo andare a prendere... ciò che è nostro. Da qui no. Dal di là, ok. Tecnica di mimetizzazione. Beh, lo sapevo già. Solo che io voglio andare lì sopra. Perché altrimenti non riesco a saltare là. però non ci arriva, sembra. Ah, dal di là forse. C'è una torcia. Insomma, una di quelle torce, di quei cosi. Sì. Penso si possa... Uh, sì che si può fare. Ok. Meraviglioso. Liberiamo. Ok. Più avanti è pieno di nemici. Attenta. Saremo attenti. Peccato. Ah, lei si teletrasporta automaticamente indietro. Carino, come... Escamotage. Beh, oh. Comunque uno l'abbiamo sconfitto, eh. E quindi adesso facciamo così. Deduco di sì. Benissimo. Devo capire se... Lui qui mi vede? No. Ok, vede solo ed esclusivamente lì dove sta puntando la luce. Ottimo. Di là ci saltiamo da lì sopra. Pariasumo lì, sì. Tu. Non ti ci provare mai più. Che bello, ragazzi. Ops. Eh, questa è stata sfortuna, eh. Ovviamente non l'avevo visto e ci sono tipo caduto sopra. Oh, il fiocco. Bene. Ah, ah. Guardate che bello. Quindi da qui non mi vedono. Molto bene. Dai, girati. Ti facciamo la festa. Ah, era tipo il boss? Bah, non lo so. Però intanto liberiamo l'anziano. Non abbassare la guardia. Il nemico vuole i nostri rotoli. Non abbasseremo la guardia. Ah, i rotoli sono nelle mie mani. Non fanno scappare. Devo andare veloce, mi stai dicendo? O è tanto per dire? No, perché io voglio controllare comunque. Se non mi fai qualsiasi altra cosa non posso... Non posso andare avanti. Senza aver saltato ovunque, tipo. Qua. No. No, di qua non penso ci sia roba, perché ci siamo arrivati. Va bene. Andiamo avanti. Boom. Questo livello ti porta ad andare veloce. Oh, cavallo. Va in automatico. Non avevo mica fatto caso. Cioè, io stavo andando avanti con la levetta, quindi pensavo che stessi comandando, guidando io, Peach. Ma, no. Peach of Persia. Avete capito? No, ne ho mancato uno. Ve lo immaginavo. Ve lo immaginavo. Vabbè, è possibile che io l'abbia dimenticato proprio in questa sezione qui, eh? È molto possibile. Molto possibile. Vabbè. Non è un problema. Lasci il rotolo. Ok. Bella lì. Cosa sto vedendo? Beh. Questo è indubbiamente, ne abbiamo saltato un altro, il livello più ispirato. È bellissimo. Questo è stato bellissimo. Non che gli altri siano stati brutti, eh? Ma questo è superior, secondo me. A quelli che abbiamo fatto fino adesso. Vestito ninja, è ok. Cioè, vestito ninja. In realtà abbiamo sbloccato una personalizzazione per il vestito ninja, credo. Comunque. Niente al cento per cento, ma me lo aspettavo, eh? Un po'. Molto bene. Siamo pronti per... Il prossimo livello. La cowgirl nel far west. Dopodiché immagino che si sbloccherà un altro piano. Abbiamo visto scale sopra, che vanno su, e scale che vanno giù. Chi lo sa. Ma... Oppure in ogni piano poi ci sarà il boss finale dell'area. Non ne ho idea di come funziona il gioco. Lo scopriremo insieme molto presto. Probabilmente dopo aver finito questo livello. Mi piace perché ogni livello ha un tema diverso. E quindi... È frizzante, no? I banditi stanno seminando il caos. Bisogna fermarli. Andiamo. Sono anche curioso di capire quante volte poi si ripeteranno le trasformazioni. L'immagino di sì, perché, insomma... Ad una certa... Ti faranno anche riutilizzare gli stessi costumi. Anche perché in realtà non mi dispiacerebbe. Solo una volta... Per singolo costume. No, c'è troppo poco. Sento che mi è venuto il coraggio. Lì inseguirò io. Sicuro? Va bene. No, qui possiamo entrare? Sì, possiamo entrare. Se ci fanno entrare vuol dire che c'è qualcosa, eh? Indubbiamente. Dobbiamo riprenderci... Ok. Ah, beh. Li stiamo liberando, sostanzialmente. Va bene. Non penso ci sia altro. Allora usciamo. Entriamo nella stanza qua vicino. Nell'altra casetta. Se casetta si può definire, insomma. Posa? No, niente... Anche perché non la possiamo fare adesso? Finché non abbiamo il costume non si può fare la posa. Ok. Qui c'è una pianta. Oh, bene. Mi do forza io, non vi preoccupate. Mi dà la sensazione che ci sarà tipo... Una corsa sui cavalli, eh? Non so. Direi che è abbastanza probabile. I banditi sono entrati nella locanna selvaggia. Aspetta, perché qui secondo me c'è qualcosa. Vabbè, questi. E questo qua. Un cuore. Ah, vabbè. Cosa che mi interessava meno. Alto là. Chi è? Mi salviamo tutti. Non vi preoccupate. Prima però fatemi fare un po' di esplorazione, se no non vale. Oh. Wow. C'è un po' di casotto qua, eh? Ma devo andare giù però. Tu intanto levati. Bravissimo. Ah beh, si passava comunque da qua, credo. E poi adesso giù? Oddio. Non so se ho fatto una buona cosa in realtà. Scusate. Mi sono gettato perché credevo tipo che non si potesse fare. In realtà si può. Entriamo qua dentro. Non vorrei però forse una cosa del non ritorno. Del tipo, se entro qui poi non esco più. No, prendiamo questa prima, dai. Calmi però, eh. Fateci piano. Con una signorina. Wow, qui rischiamo la pelle. Volevo vedere se si poteva tipo entrare, ma non si può entrare. Quindi andiamocene. Ok. Mi è costato qualche cuoricino. Ma cuoricini ben spesi, decisamente. Adesso entriamo. Sperando non ci fosse qualcosa sulla destra. Mi sembrava di no, però. Eh, sì. È troppo buio. Ci pensiamo noi. Oh, ok. Grazie. Grande il fiocco. Bene. È il nostro costume. Che poi è più di un costume. È un grandissimo power-up. Ma era per sintetizzarlo. Dai, Peach. Miu. Meraviglioso. Sarà tipo un minigioco. Che ti credi essere? Beh, almeno mi posso divertire un bel po'. Un po'. Sì. Divertiti, se puoi. Finché puoi. Oh. Ok. Ficco, no? Allora. Per il momento ci dobbiamo limitare a salvare loro. E sconfiggere un po' di nemici, a quanto pare. Occhio. Ok. Sono salvi. Abbiamo preso tutto al momento. Beh, non te la cavi male. Ma adesso me ne vado con il mio bottino. Ah ah ah. Che è che ti dico? Appena ti piglio. Vedi un po'. Cuoricini ripristinati. Acciuffiamo il... Vediamo se saliamo sul cavallo. Io me lo aspetto, ripeto. Poi... Magari non è così, eh. Direi che è così. Hm. Probabilmente correrà in automatico come la sessione di prima. E quindi... Eh, queste sessioni qui non sono semplici in realtà. Perché... Devi capire tipo immediatamente cosa fare. Eh... Diversamente... Nulla... Non ti tocca rifare. Ops. Ops. No. Vedi qua. Ah, ok. C'ho più... Casse. Mi sa che non sono riuscita a prenderla. A meno che non ci sia ancora. Ah, sì. Forse sì. Boh. Vediamo. Non penso di poter andare più veloce. Ops. Non era una scorciatoria questa, vero? Direi di no. Eh, in realtà ho sbagliato a schiacciare tasto. Cioè, volevo saltare ma... Ho lanciato la corda. Eh, ok. Fortunatamente siamo di nuovo qui. Subito. Subito, subito. Cacchio di ridi. Giochi sporco, eh. Eh, volevo andare su. Cacchio. Eh, vabbè. Ne abbiamo perso uno. Almeno uno. Due. Wow. Tutte e due in questa sessione? Molto probabile. Problemi? Fatti sotto. Mi hai voluto inseguire fin qui, a tutti i costi. E allora te la sei cercata. Regoliamo i conti, dici? E regoliamo questi conti. Volevo provare a prendere la... La pallona, ma non si può. C'era qua la bottiglia, vero? C'è solo un piccolo problema. C'ho, sto tipo crepando, ma... Pitch non crepa. Non può. Pregati questo. Ok. Rischierò un pochetto, mi sa. Come on! Non mi aspettavo due colpi, son sincero. Pensavo uno. Ah, ti togli anche le monete. Bene. Abbiamo scoperto cosa succede quando si va a KO. L'ho fatto per voi, è così lo sapete. Adesso non crepate, grazie. Via! Adesso però basta, eh. Hai avuto il tuo momento di gloria. Anche perché... Oh, non lo conoscevo. Avevo solamente... Un cuoricino. Diciamo che... Si poteva fare subito. Ovviamente sì, ma... Lo rifacciamo, ok? È divertente. Muflone. Adesso che lo so... Grazie, eh. È probabile che... Cambierà ancora, quindi dovrò stare molto attento. Sparerà a tre. Oh, l'ho preso. Grande shadow. Era fuori dallo schermo, ma l'ho preso. Che dici? Comunque, credetemi. Sono contento di... Ogni tanto perdere vita. Cioè, di non riuscire. Perché significa che... Insomma, un minimo di sfida c'è. Ok? Per il 100% invece la sfida ci sarà. Senza ombra di dubbio. Sono molto, molto convinto che dovrò rifare più e più volte questi livelli qua. Anche solamente per trovare... I collezionabili. E poi per prenderli. Ok. Il fiocco però fino ad adesso... Ma non diciamo nulla. Ok. Vediamo cosa accadde. Bene. Vabbè, era evidente che succederà qualcosa. Questo è il boss. Mi aspetto che all'interno ci sarà... Un qualche tipo di boss. Vediamo. Scopriamolo insieme. Sono estremamente curioso. E così quei figli erano collegati a questa porta. Forse è da qui che viene il caos negli spettacoli? Può essere. Che strano. Il mio splendore si sta rafforzando. Forse ha reagito a questa porta inquietante. Credo che sarei in grado di aprirla. Se riuscissimo a potenziare il mio splendore con delle gemme di splendore. Oh. Ci chiederà delle gemme? Puoi darmi alcune delle gemme di splendore che abbiamo raccolto? Sì. Direi che non abbiamo molta altra scelta. Per cui per andare avanti è obbligatorio ottenere un po' di gemme di splendore. 10. Vabbè, non sono tantissime. Magari, visto che ne abbiamo 31 e non abbiamo completato tutto. Però un minimo bisogna guadagnarne. Tanto questa penso sia una parte obbligatoria. Non c'è scampo, insomma. Vai, paghiamo. Dobbiamo anche andare a vedere il mercante se ha aggiunto qualcosina. Ho cambiato il vestito. Più che vestito, motilo del vestito sul vestito. Avete capito? Let's go. Wow. Sembra un portale dimensionale questo. Oh. Cosa cavolo sei? Chi siete? Come avete fatto a oltrepassare la porta oscura? Mmm, la porta oscura. Vogliamo riscrivere tutte le storie insieme alla somma uva spina. Quindi se siete qui per farmarci... Allora vi punirò con il potere dell'oscurore della somma uva spina. Non ci contare troppo, uccellaccio del malaugurio. Ti ridurremo a brandelli di scobecco. Let's go. Ok. Non abbiamo costumi particolari, quindi bisognerà fare più attenzione del solito. Oh, ok. Direi che ho capito. Perfetto. Almeno questa prima parte. Oh. Oh, aiuto. Oddio. Ah, beh, li dovevo semplicemente colpire. Non so perché li volevo saltare, ma... Sarà forse la forza dell'abitudine con Mario. Sapete com'è. Troppo presto. Questo va bene? Let's go. Let's go. Cosa sono questi? Ah, dovevo pigiare. E che ne so, se non me lo dici, gioco. Che è successo? Non ho capito, ma... Andiamo. Cosa vorresti fare? Schiacciarmi, per caso? Questi non li possiamo lanciare contro. Ok. Secondo me dovremmo fare la stessa cosa, soltanto che ci... Non dovremmo fare la stessa cosa. Ti stai divertendo, per caso? Perché io molto, in realtà. Vieni qua. Vai. Mi scobecco dei miei stivali. Eh. L'ho colpito. Ok. Servivano due colpi. Quindi, devo pigiare, giusto? Se non pigio... Esatto. Se non pigio... Sì. Non funziona. A ripetizione bisogna schiacciare. Bene. Cosa sono? Oh, cavolo. Ah beh, è giusto. Via. Oh, fai la stessa cosa di prima? Ti appallottoli e rompi... Rompi tutto. Esatto. Comprese le scatole. Ah 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 ah. Oh, ok. Sotto? Chi ha? Fuori uno. No, mi ha preso. Ok. Vediamo se questo sarà l'ultimo colpo. È possibile, in realtà. 3 è il numero perfetto? Vedremo. Direi che è il numero perfetto. Molto bene. Hai riportato la normalità a questo piano. Grazie mille. Però non abbiamo ancora visto nessuno splendì. Chissà dove si sono andati a cacciare. Sono preoccupata. Forse si sono messi al sicuro in uno degli altri piani. Andiamo a vedere. Sì, andremo sicuramente a vedere. Subito. Prima però... Mercante. O forse conviene direttamente vedere il mercante del prossimo piano. Vabbè. Intanto guardiamo qui. Qualcosa di nuovo potrebbe esserci. Mano a mano che si va avanti, no? Dunque. Peach. Esatto. Beh, comunque c'era anche roba vecchia che ancora dovevamo comprare, naturalmente. Questo non mi dispiace, vi dirò. 200? Vada per 200. E lo equipaggiamo istantaneamente. Yes. Così. Poi passiamo... Al nostro amichetto. Al nostro compagno. Anzi, a Stella. La nostra compagna. Qui però non c'è nulla di nuovo. Ma comunque... Io direi che... Qualcosina gli va comprato anche a lei, no? Tiè. Rosso. Molto bellino. Tiè. E adesso saliamo. Saliamo o scendiamo? Mmm... Ci lasciano libera scelta? Ok. Ah, beh. Dall'altra parte semplicemente si saliva. E poi alla fine si veniva comunque qua. Questo è un piano bloccato perché... Ci sta. Dobbiamo prima sconfiggere il boss di quest'area. Molto bene. E quindi direi che ci possiamo salutare. Diamo un'occhiata giù. Se si può andare, se c'è qualcosa. Eh, qualcosa ci sarà. Si può andare, ok. Si può andare e... Cosa ci fanno fare qua? Altri livelli? No. Questo è il piano sotterraneo del teatro, ma... C'è qualcosa di strano. Ovvero? Ho l'impressione che... Ho l'impressione che qui... Bisognerà sbloccare qualcosa. Mmm... Ok. Non si può proprio fare assolutamente nulla al momento? No, perché... Tra l'altro parte che non possiamo colpire. Ma solamente interagire, se ci fosse qualcosa con cui interagire. Questi sicuramente sono qualcosa, ma... Cosa? Non lo so. Non è una mezza idea. Naturalmente. Vediamo quale sarà il nostro prossimo livello. Da dove inizieremo questa volta? Oh, beh. Questa è sempre quella spada lì? No, mi sa di no. Mi sembra un'altra spada. No, però forse è la stessa. Non lo so. Ma credo proprio che inizieremo sempre da quello là a sinistra. E poi da questo qua sulla destra. No, dovrebbe essere una cosa nuova, in realtà. Vabbè. Lo scopriremo insieme nel prossimo episodio di Princess Peach Showtime. Grazie per avermi seguito. Alla prossima. Ha! Bella boss fight!